anche nel settore delle farmacie. Io dico mio malgrado perché è vero che la farmacia italiana si confronta, probabilmente si confronterà sempre di più con la grande distribuzione o con le parafarmacie, però è vero anche per me che l'equazione maggior concorrenza, maggior competitività, prezzi più bassi è un'equazione che si addice a contesti puramente commerciali, mentre la farmacia non è una comune attività commerciale, guai a perdere di vista questo principio. Nel mondo del farmaco e nel mondo della salute pubblica in generale il principio dell'efficienza deve cedere il passo al principio dell'equità. Nel mondo del farmaco il prezzo è fatto dallo Stato, quindi non è vero o non è detto che maggiore competitività non è detto che significa sempre vantaggio per i cittadini. Quindi tornando poi al quadro normativo, abbiamo la lettera della Banca Centrale di quest'estate, noi leggiamo le sfide principali saranno l'aumento della concorrenza, una complessiva, radicale e credibile strategia di riforme inclusa la piena liberalizzazione dei servizi pubblici locali e dei servizi professionali. Quindi già dall'azione del prossimo governo, gli articoli di stamattina ci danno notizia di riunioni intergovernative, interministeriali, scusate, fatti ai vertici. In generale noi dall'azione del prossimo governo una modernizzazione ce la dobbiamo aspettare. A questa modernizzazione noi non vogliamo sfuggire. Questa è la, secondo me, la idea. Quindi non dobbiamo sfuggire perché qual è il rischio? Il rischio è che ci si presenti in posizioni di arrocco per mantenere qualcosa che molto spesso è qualcosa di giusto, ma che altrettanto spesso viene veicolato come privilegio. Non è sempre così. Allora, se noi riusciamo a anticipare il cambiamento, ad accompagnare il cambiamento, certamente evitiamo di rischiare di farci coinvolgere da questa ondata, per questo chiamare modernizzazione. Quindi ben venga il lavoro delle commissioni auspicato, ben venga il lavoro di confronto fatto anche nell'occasione delle presentazioni delle leggi, ben venga il lavoro di giornate come questa, dove sono stati messi allo stesso tavolo parlamentare di diversi componenti, di diversa sensibilità, ma anche le istituzioni, le ase, i farmacisti titolari, l'ordine dei farmacisti e anche i cittadini. La legge che noi abbiamo oggi è la 153 con i suoi decreti applicativi. Lì noi troviamo i nuovi servizi che devono essere erogati dai farmaci. Mi sembra, dalle relazioni che ho letto e da quello che ho sentito stamattina, che questa norma può essere fonte di difficoltà per questi nuovi servizi che dovranno essere erogati dai piccoli centri. Questo mi sembra. Perché è fuori dubbio che la legge è stata fatta per individuare vantaggio per i cittadini, però è anche altrettanto ragionevole comprendere le difficoltà, immaginare le difficoltà, di fronte alle quali si troveranno le farmacie e i piccoli centri, anche le difficoltà economiche, per riorganizzare la propria effetta. Allora bene, le collaborazioni con altri presidi sanitari o altre strutture d'accordo con le asle per questo nuovo modello di servizi. C'è stata la testimonianza dell'esperimento ben riuscito dei VIH. Ma dobbiamo sapere che una piccola farmacia, dobbiamo ricordare, una farmacia di un piccolo centro, di una zona disagiata o di una zona rurale, quando deve organizzare la propria effetta va incontro a difficoltà, anche avere la connessione sulla rete internet può essere una fonte di difficoltà. Poi abbiamo le normative applicative della regione, per fare un nuovo servizio serve la sala d'attenza, la normativa antincendio, il padiglione per l'uscita di sicurezza, gli spazi per la tutela della privacy, di queste cose da tenere conto quando queste leggi ci stanno, la norma c'è e noi ne dobbiamo assolutamente tener conto. Secondo punto che è stato molto dibattuto è sulla liberalizzazione, anzi sulla vendita dei farmaci di fascia C in parafarmacina. Posso dire una cosa sulle parafarmacie? Io trovo questo termine brutto. Noi abbiamo, pensiamoci un attimo, noi abbiamo passato anni per superare il termine paramedico e adesso abbiamo il prodotto uno nuovo, parafarmacie. Comunque credo che sia fonte di possibile confusione e anche di comportamenti sbagliati perché noi abbiamo la parafarmacia che vende un parafarmaco che però a determinate condizioni può vendere anche un farmaco e lo trovo fonte di confusione a monte e possibili comportamenti sbagliati da parte del cittadino a parte. Quindi io credo che anche coloro che sono favorevoli a questa liberalizzazione sono comunque obbligati a fare una riflessione. La riflessione è in termini di rischio della continuità di perdita della continuità assistenziale che le farmacie di piccoli comuni, di zone di montagna, di zone disagiate danno e devono continuare a dare. Perché se in questi centri chiude la farmacia noi siamo di fronte a un duplice danno. A livello centrale era stato deciso di rinunciare a un servizio perché lo avrebbe erogato la farmacia del piccolo centro. Poi dopo qualche anno chiude la farmacia del piccolo centro e il servizio non esiste più. quindi in questo senso doppio danno anche per i cittadini. E alla fine di questa operazione noi corriamo il rischio di trovarci sul territorio nazionale con il territorio sguarnito per due terzi con poi il rischio della sovrabbondanza del terzo interesse. Quindi credo che questo processo che preferisco chiamare ammodernamento, credo che questo processo debba tenere insieme e coniugare le due esigenze. Certamente da una parte ci sono dei processi di ammodernamento ma che riguardano le grandi aree, le grandi aree metropolitane. Dall'altra parte deve tener conto e deve salvaguardare la specificità delle farmacie e dei piccoli centri perché insisto che questa specificità deve essere salvaguardata, incentivata, altrimenti finisce come le scuole. Se in un piccolo comune una scuola non è raggiungibile in uno spazio ragionevole come una farmacia. Facciamo prima a chiudere il piccolo comune. Quindi in conclusione negli ultimi anni abbiamo assistito a privazioni nei piccoli comuni, abbiamo ridimensionato le scuole, abbiamo chiuso gli uffici postali, abbiamo chiuso anche le caserme. Quindi chi vuole fare una liberalizzazione deve fare questa riflessione. Se ci si rende responsabili di chiudere della chiusura delle farmacie rurali, che sono davvero un presidio sanitario, noi miniamo la continuità assistenziale dei cittadini di quei piccoli centri e quella comunità assistenziale, quella comunità attraverso, il comune la dà e la deve continuare, quel piccolo comune la dà e la deve continuare attraverso anche la farmacia. Quindi se l'obiettivo del futuro possibile, e concludo, e l'intento della norma è quello di individuare nuovi servizi per le farmacie, noi dobbiamo sapere, non dobbiamo appunto sottrarci alla verità, che nel caso delle farmacie rurali...